Sospesi anche per il 2022 i mutui dei comuni colpiti del sisma del 2016, la proroga fino al prossimo 31 dicembre è stata inserita dal Ministero delle Economie e delle Finanze direttamente nel Decreto Energia e ora è arrivata la bollinatura della ragioneria dello Stato. Una decisione che rappresenta un'importante boccata d'ossigeno per gli enti locali del cratere, già le prese con le difficoltà economiche aggravate dall'impennata dei costi delle bollette. Le rate in pagamento rischiamano di essere una stangata per le loro casse e con conseguente riduzione dei servizi essenziali ai cittadini. Una grande vittoria, un risultato importante dei sindaci, tutti dei sindaci del cratere sismico abruzzese e dell'intero centro Italia, un'esigenza che abbiamo rappresentato più volte, tanti sindaci si trovano in una difficoltà per poter chiudere i bilanci, ecco perché la sospensione dei mutui consente di dare un respiro importante ai bilanci dei comuni e soprattutto consente di mettere in campo una programmazione che tuttavia ci porta a ribadire la necessità che questi strumenti e queste misure devono essere approvate per tempo. Quest'anno è stata approvata tardi, addirittura dopo la scadenza dell'esercizio finanziario 2021 e noi chiediamo appunto che ci sia la consapevolezza che queste misure vadano adottate subito, già adesso si deve lavorare per la sospensione dei mutui per l'anno prossimo e soprattutto con delle misure che siano strutturali, almeno triennali, che consentono appunto ai comuni del cratere di mettere in campo una programmazione di bilancio e di sviluppo permanente, tra l'altro in un momento in cui i comuni si trovano anche a dover fronteggiare le scadenze importanti del PNRR, PNRR ordinario e per quanto riguarda il cratere PNRR sisma. Quindi al Governo e al Parlamento ribadiamo la necessità di mettere in campo misure strutturali di emergenze che affianchino una ricostruzione che non è solo quella materiale ma anche e soprattutto una ricostruzione economico, sociale e culturale che al momento è in atto grazie al lavoro straordinario che i sindaci stanno facendo con il coordinamento del Commissario Legnini.